Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci pone di fronte a una scena sconcertante e anche un po' sgradevole. Non ci saremmo aspettati un gesto del genere da parte di Gesù. Lo abbiamo sempre immaginato tenero, dolce, affettuoso che accarezza i bambini. Ora invece lo vediamo indignato prendere una frusta, scacciare dal Tempio compratori e venditori e il richiamo più immediato che ci viene spontaneo e ha una certa commistione, religione, denaro che è presente anche oggi e che suscita molte critiche non soltanto da parte del mondo laico ma anche da parte di tanti cristiani che vorrebbero una chiesa più evangelica su questo punto. Questo significato provocatorio del gesto di Gesù sarà certamente richiamato nelle prediche dei preti in questa domenica ma noi non ci soffermeremo su questo aspetto ma ci concentreremo sul significato teologico più profondo di questa scena. Lo voglio anticipare poi ci torniamo sull'argomento riguarda la fine di una certa religione, di un certo modo di rapportarsi con Dio che potremmo chiamare un modo commerciale, cioè dare a Dio qualcosa per avere come premio i suoi benefici, le sue benedizioni, offrirgli dei sacrifici e anche una vita con un comportamento bello per essere benedetti da Lui, cioè offrirgli qualcosa per avere in cambio i suoi doni e le sue benedizioni. È un modo pagano di rapportarsi con Dio e con questo gesto Gesù vuole proprio porre fine a questa religione. Sarà su questo tema teologico che noi ci soffermeremo. Ma vorrei cominciare ad ambientare il fatto accaduto a Gerusalemme, ambientarlo dal punto di vista storico e archeologico. Dov'è che Gesù ha compiuto questo suo gesto profetico così provocatorio? Andiamo a vedere questo luogo e cominciamo a presentare quella che è la spianata del Tempio oggi. Alle mie spalle vedete la spianata del Tempio ripresa dall'alto. È una foto aerea ed è la spianata che era stata costruita dal re Erode. Guardandola non vi dà l'idea della grandezza. Pensate che quella spianata equivale all'area di 22 campi di calcio regolamentari. In quella spianata ci starebbero belle larghe le tre piramidi di Egitto. Per ottenerla Erode ha dovuto far sbancare la roccia della cima di una montagna nella parte nord di questa spianata là dove sorge oggi la cupola della roccia, luogo che poi è stato occupato dal Tempio, dal Santuario del Tempio di Gerusalemme. Questa costruzione è stata iniziata nel 19 avanti Cristo. Maria, la mamma di Gesù, doveva avere due anni, tre anni quando hanno iniziato a costruire quella spianata. Vedete anche lo sfondo, il Monte degli Olivi? E poi fra il Monte degli Olivi e quella spianata scorre il torrente Cedron e c'è un punticino che adesso vi viene indicato che è molto importante, il Gezzemani. Vediamo ora com'era la spianata e il Tempio al tempo di Gesù. Eccolo com'era. Ci viene presentata la ricostruzione che è stata fatta dagli archeologi. Era così. Nella Pasqua del 28, quando Gesù aveva 35 anni. Giovanni ci permette di fissare questa data perché dice che i Giudei obiettarono a Gesù che aveva detto distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo riedificherò. E obiettano i Giudei. Questo Tempio è stato costruito in 46 anni. Dal 19, 46 anni, arriviamo proprio a quell'anno 28. A questo punto però dobbiamo fare una distinzione che è importante e il Vangelo distingue molto bene fra Tempio, in greco hieros, e santuario, naos. Gesù dirà non distruggete questo Tempio, distruggete questo santuario. Il Tempio hieros indicava tutto quel complesso che vedete nella ricostruzione, quindi tutti gli edifici, la spianata, i portici, i cortili. Quindi il santuario indicava il recinto sacro dove si offrivano i sacrifici, dove si riteneva che fosse presente la gloria del Signore nel Santo dei Santi. Lungo il muro occidentale scorreva la strada erodiana, una strada lastricata, era larga 8 metri e mezzo, e sui due lati c'erano i negozi dove si vendeva di tutto, ma essendo vicini al Tempio, la mercanzia più richiesta era naturalmente quella legata al culto, quindi gli agnelli, le colombe, gli incensi, i profumi, i vasi di pietra. Normalmente il commercio di queste cose avveniva lungo questa strada e anche normalmente lungo il torrente Cedron, che ho indicato poco fa, e quindi proprio vicino al Gezzemani, prima di salire al Tempio del Signore, si potevano comprare tutti gli oggetti che erano necessari, oggetti o animali necessari per il culto. Ma in tempo di Pasqua il commercio si ampliava. Non avveniva solo in questa strada erodiana o lungo il torrente Cedron. Durante la Pasqua arrivavano a Gerusalemme, ci dice Giuseppe e Flavio, centomila pellegrini. La città di Gerusalemme di solito stava sui quarantamila abitanti e triplicava per la Pasqua e Giuseppe e Flavio, esagerando un po', dice che si sacrificavano fino a diciotto mila agnelli. E questi agnelli non venivano portati da casa, dovevano essere comperati sul posto. Ecco allora che il commercio si estendeva anche negli atri del Tempio, concretamente in due ambienti che adesso vi voglio indicare. Il portico reggio nella parte sud della spianata e questo portico reggio era un edificio meraviglioso, una basilica adibita nella Pasqua alla compravendita di buoi, agnelli, colombe. E i gestori di questo commercio li conosciamo per nome, era un commercio molto redditizio. Era gestito dalla famiglia sacerdotale di Anna e Caifa. E c'era la commistione fra questo commercio e la religione e Gesù ha toccato un nervo scoperto molto debole, ha toccato il denaro legato al culto. È stata la goccia che ha fatto poi traboccare il vaso perché i sommi sacerdoti hanno detto quest'uomo è pericoloso, dobbiamo toglierlo di mezzo. E di questo portico reggio ci interessa anche l'ingresso. La maestosa porta era chiamata la porta di Coponio. Coponio è stato il primo dei procuratori romani nel 6 d.C. quando i stessi giudei hanno detto non vogliamo più saperne del figlio di Erode, Archelao, che è peggio di suo padre. Sono andati a Roma e hanno chiesto all'imperatore di essere governati direttamente dai romani. Ed infatti il primo dei procuratori è stato Coponio. È stato dato il suo nome a questa stupenda porta, la più bella delle otto porte che davano ingresso alla spianata del Tempio. A questa porta si giungeva salendo una maestosa gradinata che passava sopra un grande arco, e che scendeva poi verso sud, quindi verso la piscina di Siloe. Ci interessa questa gradinata perché? Perché nel basamento di quell'arco erano stati ricavati quattro vani e in quei quattro vani c'erano i cambiavaluta con i quali poi Gesù ha avuto a che fare come vedremo nel racconto del brano evangelico di oggi. Vi do alcuni dati riguardo a questa gradinata. Anzitutto, la larghezza era larga 15 metri e 20. Il numero forse non vi dice molto, ma corrisponde alla larghezza di un'autostrada a quattro corsie. Poi notate l'arco. Si trova a un'altezza di 17 metri e mezzo dal livello della strada erodiana. Anche qui forse il numero non vi dice molto, ma corrisponde all'altezza di un palazzo di 6 piani. Il tratto degradava verso Siloe ed era lungo 35 metri. Proviamo adesso a salire questa gradinata. Veniamo da Siloe e prima di salire a sinistra ci fermiamo un attimo per osservare il basamento di quell'arco. Intravediamo gli ingressi dei quattro vani a cui ho accennato prima. Torneremo tra poco per osservarli da vicino. Possiamo apprezzare quanto sia maestoso quell'arco alto 17 metri e mezzo. E adesso saliamo la gradinata e attraversiamo la porta di Coponio. Eccoci, nello stupendo portico regio. Questa enorme sala era lunga 185 metri, praticamente quasi come due campi di calcio regolamentari. La sala al piano terra, quella che stiamo vedendo, presentava quattro file di 40 colonne, quindi ogni quattro metri e mezzo c'era una colonna. Le colonne lungo la parete erano semicolonne, erano alte 10 metri e poi avevano in cima un capitello corinzio che era alto un metro e 80. Sopra, lo vedete, c'era un secondo piano e poi il soffitto decorato. Era sotto questo portico che si svolgeva l'attività economica più redditizia. E possiamo immaginare il vociare, il via vai, le discussioni. E usciamo adesso da questo portico regio e che cosa vediamo? La spianata. In questa spianata poteva entrare chiunque, anche i ciechi, gli storpi, i paralitici, i sciancati e anche i pagani. Ma nel santuario potevano entrare soltanto i giudei. Se osservate bene, potete notare alla base del santuario una balaustra più scura. Era il muro di separazione che non poteva essere oltrepassato dai pagani appena alla morte. Osserviamo il santuario dove venivano offerti sacrifici al Signore. Vedete il fumo degli olocausti che sale al cielo. Ecco, nel portico regio vi viene indicato alle mie spalle questa magnifica costruzione. Gesù, dopo essersi fatto una frusta, ha scacciato tutti, mercanti, compratori, venditori, animali e poi è uscito dal portico regio ed è sceso lungo la gradinata che vi ho indicato prima per entrare in quei quattro vani in cui lavoravano i cambiavalluta. Eccoli adesso rimessi in luce dagli archeologi, come hanno fatto a identificarli? Proprio perché davanti a questi vani sono stati trovati due tipi di monete che avevano corso a Gerusalemme al tempo di Gesù e vi vengono indicate queste monete. sono le prime quelle che riproducevano il volto di Tiberio e che sul retro avevano le figie di sua madre, Livia, la terza sposa di Cesare Augusto. E queste monete di Tiberio avevano corso nei mercati della città ma non potevano essere introdotte nel tempio, quindi se uno voleva fare le offerte non poteva portare queste monete perché avrebbero contaminato il luogo santo a causa dei simboli pagani che avevano incisi. Secondo tipo di monete sono le perutotte che vi vengono indicate. Chi voleva fare un'offerta doveva cambiare il denaro di Tiberio con queste perutotte che non avevano alcun simbolo pagano inciso. Quelle che vi sono state mostrate sono state trovate proprio qui davanti a questi quattro vani insieme con le monete di Tiberio. Sono conservate nel Davidson Center che si trova a sud della spianata e sono del 70 dopo Cristo, proprio l'anno della distruzione del tempio. Quindi quando i soldati romani hanno buttato giù quei massi enormi che costituivano le costruzioni del portico reggio hanno sotterrato anche queste monete sia quelle di Tiberio che le perutotte. Quindi quando sono state trovate gli archeologi hanno potuto con sicurezza dire era qui che avveniva il cambiamento delle valute. Sono state ritrovate quindi nel 70 queste monete e questo ci dice che dopo che Gesù ha scacciato i venditori, dopo un'ora avevano rimesso di nuovo a posto tutte le cose, i mercanti avevano ripreso il loro commercio, tutto era continuato come prima, il denaro aveva continuato a scorrere a fiumi nel luogo santo. A questo punto possiamo comprendere meglio ciò che è accaduto nel tempio quando Gesù è giunto per la Pasqua. Ascoltiamo come Giovanni racconta l'episodio. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe e gli disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Per la Pasqua si portavano a Gerusalemme le monete della tassa che ogni giudeo doveva pagare per il servizio del tempio. Portavano queste monete da tutto il mondo. Il tempio era considerato a quel tempo la più grande banca dell'antico Medio Oriente. Nel secondo libro dei Maccabei si dice che il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l'ammontare delle somme era incalcolabile. Chi gestiva tutto questo commercio era la famiglia dei sommi sacerdoti, Anna Caiffa. E rifatti quando Gesù giunge nel tempio incontra venditori di buoi, pecore, colombe, cambia valuta, seduti, era quel mercato che era funzionale al culto che si svolgeva nel tempio. I profeti avevano criticato questo modo di rapportarsi con Dio e Zaccaria diceva che un giorno sarebbe finito questo mercato nel tempio e profeta Malachia aveva impiegato delle immagini molto forti per parlare della purificazione che ci sarebbe stata nel tempio. Aveva detto il Signore verrà come fuoco del fonditore, come l'isciva dei lavandai, purificherà i sacerdoti del tempio, li affinerà come si fa con l'oro, con l'argento nel crogiollo, perché Dio vuole un'oblazione secondo giustizia. E anche c'è il Salmo 50 che tutti gli israeliti conoscevano e recitavano continuamente, quel Salmo in cui Dio dice cosa mi interessano i vostri agnelli, i vostri capri sono mie tutte le bestie della campagna, se avessi fame non chiederei a voi come saziarmi. Ecco, la purificazione del tempio era interpretata anche dai profeti come un miglioramento del tipo di liturgie che molte volte venivano trascurate e allora qualcuno dei profeti si lamentava che venivano offerti degli agnelli sciancati, deboli, e chiedeva che a Dio fossero offerti dei sacrifici belli. Non è questa la purificazione del tempio che introdurrà Gesù. Beh, diciamo anche che gli agnelli che venivano offerti erano esaminati per ben due volte al tempo di Gesù per verificare che non avessero difetti. Ma il gesto di Gesù non è un richiamo a compiere meglio i riti e le liturgie per offrire agnelli migliori, no, è un'altra religione quella che lui propone. L'Evangelista dice che ha scacciato tutti dal tempio insieme con le pecore e con i buoi, poi sparge le monete e dei cambiavalute. È importante questo Gesù che scaccia tutti dal tempio. L'Evangelista Matteo e anche Marco notano che ha scacciato sia i venditori che i compratori. I compratori erano coloro che avevano assimilato la pratica religiosa che era predicata, dai rabbini ed erano dei poveri che erano sfruttati, erano ingannati perché si illudevano che offrendo qualcosa a Dio avrebbero ricevuto poi i suoi favori. C'era uno scambio di favori. Gli israeliti davano qualcosa a Dio il quale poi gli benediceva nella fecondità dei campi, degli animali, la benedizione in modo che non avessero delle malattie. Ecco, il tempio era diventato un mercato, un commercio in cui si dava a Dio qualcosa per poter ricevere i suoi favori. Ecco, non è che dovevano migliorare le offerte, agnelli più belli? No, era questa religione, questo tipo di rapporto commerciale con Dio che adesso Gesù vuole che sia eliminato, che si è tolto di mezzo. E poi c'è un altro dettaglio che va sottolineato. Sono scacciati tutti. Chi c'era dentro il tempio? Nel tempio potevano entrare le persone pure, mentre coloro che erano impuri, ricordiamo il libro delle viti o il capitolo 21, dice che chi è cieco, o zoppo, sfregiato o deforme, chi ha una frattura, un piede o una mano, chi è gobo, non può entrare nel tempio, perché nel tempio devono entrare soltanto coloro che sono perfetti. Solo loro possono accostarsi a Dio. Bene, nel tempio quindi c'erano queste persone pure perfette. Sono scacciati tutti. E quello che è interessante è ciò che dice proprio in questo contesto l'Evangelista Matteo, al capitolo 21, dice che quando Gesù ha scacciato tutti, si avvicinarono a lui nel tempio ciechi e storpi. Ed egli li guarì. È interessante. Sono scacciati coloro che si ritenevano puri perché, praticando quella religione, si sentivano in sintonia, in armonia con Dio e adesso invece entrano nel tempio coloro che erano esclusi perché c'è un nuovo rapporto con Dio che viene proposto adesso da Gesù. Credo sia molto attuale questo messaggio perché la religione tende spesso a ridurre il rapporto con Dio a termini di scambio, preghiere, opere buone, sacrifici che vengono fatti per ottenere, guadagnarsi i favori o i premi del Signore. No, questa religione deve scomparire. Gesù scaccia fuori dal tempio tutti coloro che la pensano così. E poi c'è un dettaglio. Se la prende con i venditori di colombe. Perché? Beh, chi è che comperava le colombe nel tempio? Erano i poveri. Non avevano i soldi per offrire un agnello e allora compravano le colombe. Ricordiamo che anche Maria e Giuseppe offrono due colombe perché sono poveri. Gesù se la prende con i venditori di colombe perché questo tipo di religione sfrutta le persone più povere, più ingenue. Dio offre gratuitamente i suoi doni. Non c'è bisogno di offrirgli dei sacrifici e degli olocausti. E a questo punto i discepoli si ricordano di una frase del salmista che dice lo zelo della tua casa mi divorerà. E lo applicano a Gesù. Sarà questo zelo per Dio, per la vera religione, che divorerà Gesù, che lo porterà alla morte. Perché? Perché il gesto che lui ha compiuto, quindi la condanna di un certo modo di rapportarsi con Dio, che era praticato nel tempio, sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Perché? Perché chi gestiva questa religione, questo commercio, concretamente ci sono dei nomi che conosciamo molto bene, la famiglia di Anna, Caifa, costoro, vorranno e riusciranno a toglierlo di mezzo. Ecco come i discepoli applicheranno a Gesù queste parole del salmista, questo zelo per il vero volto di Dio, per il vero rapporto con Dio mi divorerà, mi porterà alla morte. E ora siamo giunti al messaggio centrale del brano. Gesù che invita a distruggere, a farla finita con questo modo di rapportarsi con Dio, perché lui sta per far sorgere un nuovo tempio dove verranno offerti i veri unici sacrifici graditi a Dio. Allora i giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Prima ho fatto una distinzione fra tempio e santuario. Il tempio indicava tutti quegli ambienti che si trovavano in questa spianata e propriamente quest'area non era di per sé tutta sacra. Difatti potevano entrare anche i pagani in una parte di questo tempio. Il luogo che era sacro era il santuario. Il santuario che cos'era? Era il luogo della presenza e dell'incontro con Dio, il luogo dove si entrava in comunione con lui attraverso i sacrifici e gli olocausti. Ora ecco l'invito che fa Gesù ai giudei i quali gli chiedono ma tu che segno fai per compiere il gesto che hai fatto, cioè di cacciare fuori tutti coloro che praticano questa religione. E Gesù risponde distruggete questo santuario. Non sta più parlando dei commerci che venivano fatti nel tempio. Adesso parla del santuario, del luogo dell'incontro con Dio, del luogo dove avviene questo rapporto, commerciale con lui. Dice distruggete questo santuario e io in tre giorni ricostruirò il vero tempio. E nota l'evangelista stava parlando del suo corpo, cioè della sua persona come nuovo santuario, del luogo dove si può davvero incontrare Dio e dentro questo santuario, uniti a questo santuario, si possono offrire i sacrifici autentici, quelli graditi a Dio. La conclusione del brano evangelico di oggi ci parrà quasi sconsolata nei confronti di coloro che di fronte al segno compiuto da Gesù gli daranno la loro adesione. Gesù, dirà l'evangelista, non si fidava di loro. Per quale ragione? Perché Gesù sa che bisogna stare attenti, non lasciarsi subito trasportare dall'entusiasmo. Bisogna prima capire bene la sua proposta di nuovo tempio. Sentiamo la conclusione del racconto. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. L'ultima parte del brano evangelico di oggi ci invita a riflettere su questo nuovo santuario nel quale chi crede in Cristo viene inserito, entra in questo santuario. E' la Chiesa. E' quella comunità di discepoli che hanno accolto lo spirito del Maestro. Lo spirito è la sua vita, quella forza divina che porta a vivere per amore come lui ha vissuto. e questo spirito è comunicato alla Chiesa. Nel mondo è guardando a questa Chiesa che noi possiamo vedere e incontrare l'amore di Cristo. Ecco allora questa Chiesa che è la presenza, o dovrebbe essere, e se è fedele allo spirito di Cristo, lo è la presenza di Cristo nel mondo. Eccolo, questo nuovo santuario è Cristo con tutti coloro che hanno dato l'adesione a Lui, che hanno accolto il suo spirito. Allora, la prima riflessione che dobbiamo fare è che anzitutto è necessario prendere coscienza di appartenere a questo nuovo santuario che è la comunità cristiana. Paolo, nella Lettera ai Corinzi, al capitolo terzo, dice «Non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, e il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio di Dio siete voi, non come singoli. Tempio di Dio siete voi come comunità». E quali sono questi sacrifici che vengono offerti? Sono quelli che Gesù ha offerto durante tutta la sua vita, doni di amore. E poi è un santuario, questo, dove non ci sono esclusioni, dove vengono accolti tutti. Ricordiamo che nell'antico santuario non potevano entrare tutti. Se noi ripensiamo a quello che era il Tempio, il santuario, era tutto un susseguirsi di barriere. C'era dentro il Tempio una balaustra di fronte alla quale si dovevano fermare i pagani. C'erano tredici iscrizioni in cui veniva minacciato di morte colui che passasse quella balaustra senza essere un pio giudeo. Quindi peccatori, storpi, ciechi, zoppi, pagani dovevano rimanere fuori da questa balaustra. Solo gli israeliti potevano varcare questo muro di separazione. Poi c'era un'altra barriera, un po' più avanti, era quella che bloccava le donne. Più in là potevano passare solo gli uomini israeliti. Poi a un certo punto c'era un'altra barriera. Anche gli uomini venivano fermati, potevano passare solo i sacerdoti. Poi un'altra barriera ancora, quella in cui si dovevano fermare i sacerdoti perché solo il sommo sacerdote poteva entrare nel santo dei santi. Ecco, Gesù ha dato inizio al nuovo Tempio, quello che è la sua persona e la comunità dei discepoli che hanno accolto il suo spirito. Questo Tempio non c'è più nessuna barriera, nemmeno la barriera che separava il sommo sacerdote da Dio. Cioè quel velo del Tempio attraverso il quale poteva passare solo il sommo sacerdote. Anche quel velo del Tempio è stato squarciato. Tutte le barriere adesso che separavano gli uomini da Dio sono crollate in questo nuovo Tempio che è il corpo di Cristo. Voglio ricordare il testo della lettera agli Efesini, stupendo testo. In Cristo Gesù, sta parlando ai pagani, l'autore della lettera, Voi che un tempo eravate lontani siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che dei due ha fatto una cosa sola abbattendo il muro di separazione. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. E in questo Tempio, ecco il messaggio importante, da questo Tempio che è Cristo con coloro che hanno dato l'adesione a Lui, salgono i sacrifici graditi a Dio. Le opere di amore, non più il profumo degli incensi o degli olocausti, ma il nardo, il profumo di nardo, il simbolo dell'amore. Dice la prima lettera di Pietro. Voi vi avvicinate a Lui che è la pietra viva, la pietra angolare, è stata rifiutata dagli uomini, ma preziosa e scelta davanti a Dio. E voi vi unite a questa pietra fondamentale come pietre vive per costruire questo edificio spirituale per un sacerdozio santo, perché in questo Tempio, come sacerdoti, voi adesso potete offrire i sacrifici graditi a Dio in Cristo. Ecco il messaggio centrale che noi abbiamo in questo Vangelo ed è un motivo di riflessione in questo tempo di Quaresima e anche di conversione da un certo modo di rapportarci con Dio che è finito con l'intervento di Gesù per entrare in questo nuovo Tempio e assimilare questo nuovo modo di unirci a Lui. auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana. Grazie! 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 Grazie!